Imprese e trasporti in ambito internazionale, normative, difficoltà e soluzioni. Alla Camera di Commercio di Chieti si è svolto un convegno rivolto a tutti gli imprenditori che hanno fatto dell'exporto un'importante fetta del proprio mercato. L'Aula è piuttosto eterogenea perché abbiamo da realtà del settore dei trasporti come spedizioniere a imprese del settore agroalimentare, imprese del settore anche della meccanica e di altre realtà. In Aula è presente quello che è il mondo della consulenza o dell'assistenza alle imprese che non manca mai all'interno dei nostri percorsi di formazione. Il professor Favaro che ci fa sempre il piacere di essere qui con noi per un appuntamento annuale che noi dedichiamo come azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti alle imprese ci porta e ci guida per mano alla scoperta di quelli che sono i trucchi e quelle che sono le criticità dei trasporti internazionali. Tra le problematiche più diffuse nei trasporti internazionali, da un lato gli alti costi per le piccole e medie imprese e dall'altro le difficoltà relative a normative vigenti al di fuori dei confini nazionali. La missione dell'azienda speciale è quella di favorire i processi di internazionalizzazione del nostro tessuto imprenditoriale. Lo facciamo aggiungendo oggi anche uno spunto che è legato alle opportunità di finanziamento, alle agevolazioni che l'Unione Europea mette a disposizione del settore dei trasporti e lo facciamo perché l'agenzia di sviluppo è membro della rete Enterprise Open Network che è una creatura della Commissione Europea che favorisce oltre i processi di internazionalizzazione anche l'accesso al mercato unico e anche la facilitazione, il facilitare, l'agevolare i processi di trasferimento tecnologico. Grazie a tutti.